La Fondazione Pierozzi, nata in memoria di Francesca che venne a mancare per un linfoma 24 anni, continua a lavorare sui concetti di utile ed ideale. Da anni la Fondazione ha infatti l'obiettivo di creare informazioni utili a chi si ammala come Francesca, ma soprattutto di generare fondi per la ricerca. La Fondazione sostiene un progetto del Dipartimento di Scienze e Biologia Molecolare dell'Università di Urbino, dove un gruppo di ricerca, grazie a nuove strategie sperimentali, sta ottenendo interessanti risposte nei modelli cellulari tumorali. In prossimità del periodo natalizio la Fondazione ha dunque organizzato due importanti iniziative, una serata di gala e una mostra, per continuare a sostenere la sperimentazione oncologica. Appuntamenti a Fano, venerdì 1 dicembre. Una cena, abbiamo chiamato serata di gala, dove mettiamo a tavola 100 persone e parleremo di sana alimentazione, che è un po' il tema, il filo conduttore che ci ha accompagnato da là che ci ha dato Francesca, dalla sua tesi in alimentazione e chemioterapia. Quindi queste 100 persone in un percorso di degustazione avremo medici, produttori, vari personaggi del territorio e i ricercatori, quindi parleremo anche dell'avanzamento della ricerca. E sempre venerdì 1 e questo durerà invece per un mese, per tutto il mese di dicembre. Abbiamo preso nei classici temporary store, abbiamo preso un negozio in centro Fano, in via Matteotti 163, dove ci sarà una mostra di oggetti, di opere d'arte, cose che ci hanno donato e saranno messe all'asta. Quindi un altro modo per contribuire con qualcosa magari di concreto che non si può portare a casa è il nostro progetto. Grazie.